Big Voice Podcast Su Voci.fm Le voci leggendarie della musica Su Voci.fm parliamo anche dei big della musica Capace di lasciare un segno indelebile nella storia J.K. non è forse il nome più evocativo Ma basta ricordare Jamiro Quai Per avere ben presente la band Assy Jazz Più amata dagli anni 90 ad oggi A capitanarla è proprio lui Jason Lewis Chitman Nato a Stratford nel 1969 Da Karen Kay Cantante di cabaret, attrice e personaggio televisivo Dopo un periodo turbolento in adolescenza Jason ha scelto di seguire la stessa strada dei genitori E di dedicarsi alla musica Fonda la propria band e inizia a scrivere e comporre Utilizzando la propria voce come linea guida Per gli strumenti dei suoi musicisti Con la pubblicazione del primo disco Emergency on Planet Earth Che parla di temi ambientalistici Jamiro Quai hanno ottenuto un successo Sempre in ascesa, a livello mondiale La voce di Jason Kay è sicuramente Uno degli elementi caratterizzanti della band Jason ha una dizione perfetta Che lo aiutano lo staccato Quella tecnica vocale basata sul ritmo Che si lega benissimo al genere funk La sua non è stata una vera e propria formazione musicale Ma un'arte influenzata sin da bambino Dalle esperienze con la madre cabarettista Che gli ha permesso di apprendere tecniche teatrali Sia nell'uso della voce Che nel modo di muoversi e gestire il palco Ricorrere a questi trucchi del mestiere Gli ha permesso di non mutare In quasi 30 anni di carriera J.K. si distingue in positivo Anche nelle performance dal vivo Dove dimostra non solo di essere un ottimo ballerino Ma di saper cantare con una bravura tale Che è quasi impossibile Distingue il suono della sua voce live Da quello in studio Una peculiarità che si trova davvero in pochi artisti Il sound di Jamiro Quai Ha subito alcune trasformazioni nel tempo Passando dall'elettronica al puro funk Ma l'energia elegante che J.K. fa uscire dalla sua voce È sempre la stessa I Jamiro Quai Unici e sempre attuali Sono Francesca Fagella Acesse o Vote.fm